E allora al termine della finale, terzo quarto post Europa League, trofeo Beppe Viola Junior, categoria 2011. Siamo con il mattatore Aurigemma, questo pomeriggio tre reti, una traversa colpita direttamente da punizione. Allora ti chiediamo quali sono le tue emozioni al termine di questa sfida. Sono molto felice che la squadra ha vinto e sono felice anche per il posto che siamo riusciti a raggiungere in questa competizione. Ti chiedo, percorso quasi perfetto, solo in semifinale è arrivata la sconfitta che non vi ha permesso l'accesso alla finale primo-secondo posto. E allora, che cosa vi portate via di buono da questa esperienza e cosa invece dovete migliorare per il futuro? Sicuramente dobbiamo migliorare l'approccio alla partita perché nelle semifinali contro l'Urbe non siamo quasi scesi in campo, abbiamo giocato malissimo. Niente, dobbiamo imparare a facciare bene la partita questo. Perfetto, ultima cosa e poi ti lascio andare a festeggiare con i tuoi compagni, vuoi dedicare a qualcuno questa tripletta? Sì, al mio mister, ai miei compagni, ai miei padri e a tutta la mia famiglia insomma. Perfetto, allora grazie mille Aurigemmo, buon divertimento e buon pomeriggio. Ciao, ciao.